Cosa è successo quando Cesena ha segnato? Non ho visto la situazione così chiaramente perché ero con il giro nel secondo posto ma penso che bisogna andare uomo a uomo e prendere il giro fuori dalla giro quindi possiamo perdere il giro in questo tipo di cosa. La giocata del Pescara, cosa pensate di questo giro? Da due parti abbiamo visto una buona qualità, è stata una buona atmosfera, quindi possiamo sviluppare da questo giro, possiamo prendere molte cose e possiamo perdere questo giro in questo tipo di cose perché se prendiamo il giro fuori dal boss è 0-0 oggi e possiamo prendere un punto. Poteva finire 0-0, la squadra poteva e meritava di prendere un punto. Si è giocata comunque una bella partita con qualità in uno stadio davvero molto molto bello. Adesso secondo te quale deve essere l'obiettivo del Pescara dopo questa partita? Quale sia il obiettivo del Pescara dopo questa partita? Sì, abbiamo ancora 4 gioco, quindi possiamo continuare. Dobbiamo creare, credo che bisogna prendere più cose dal giro. e credo che abbiamo ancora 4 gioco, quindi bisogna continuare in questo modo e credo che dopo queste 4 gioco possiamo essere pronti per la gioco. Grazie. 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 Grazie.